E ora è il momento di Angelo Bordiga, artista bresciano, classe 1963. Diplomato a Brera, si occupa di teatro in qualità di scenografo. Lavora come decoratore all'Istituto Grafico Italiano e dipinge spasmodicamente quasi a volersi liberare di qualcosa che lo ossessiona. Sempre presente attraverso le sue opere ha la Vecchiato Arte, che recentemente ne organizza un'importante mostra personale curata dal critico Michele Tavola che dice «Le ricette elaborate nel corso dei secoli sono il viattico per un'arte nuova e di qualità, quella di Angelo Bordiga. La sua necessità liberatoria lo porta a dipingere su qualsiasi supporto venga a trovarsi nel suo cammino». E non solo tele e carta, ma moquette, coperte, legno ed altro. Chiedi ora informazioni. Angelo Bordiga, l'arte da collezionare da Vecchiato.